go wheelers buah a tutti e bentornati sul canale come sempre qui è il vostro alas che vi parla piacere di rivedervi nuovo episodio della serie motorsport manager mobile 3 alas adramson one in one racing team in formula 1 gp di gilford turno 6 di 12 quindi siamo esattamente a metà della stagione se non avete visto l'ultimo episodio il round numero 5 mi raccomando non perdete tempo andate a cliccare in questo momento nell'angolo in alto a destra per recuperarlo questa stagione sta volgendo veramente benissimo come dicevo nello scorso episodio probabilmente il migliore inizio di stagione di tutta la serie ora alla ottava stagione e speriamo di proseguire così anche in questo gran premio di gilford in inghilterra non perdiamo tempo naturalmente vi chiedo come sempre di fare tutto ciò che sapete like commento iscrivetevi dove volete in tutti i social compresi naturalmente qui sul canale youtube cosa più importante ovviamente e non perdiamo tempo e scendiamo in pista proseguiamo andiamo a scegliere il nostro sponsor per il fine settimana inglese di gilford andiamo a scegliere stonewall bank ci ha portato fortuna nella scorsa gara a sceglierlo per la prima volta visti i risultati in qualifica in gara vediamo di confermarlo gilford inghilterra sesto round della stagione di formula 1 pronti a scendere in pista per le nostre qualifiche subito con sofia floers a migliorare il suo setup 41 per cento non male ma neanche troppo bene mentre sfortunatissima con le carte sam rios 44 per cento per sam rios anche lei un po sfortunata vediamo comunque questo primo giro come andrà primo settore record per sofia floers che non si smentisce davanti alla compagna di squadra tutto fucsia 103 0 32 più di 5 decimi di vantaggio sulla compagna di squadra per sofia floers nel primo giro cronometrato scendiamo subito in pista per migliorare ulteriormente 98 per cento per sofia floers quasi al top già nel secondo giro si ferma l'ottanta per cento sam rios quindi vuol dire stesso setup di sofia di sofia floers meno 0 75 andiamo a seguire la pilota tedesca primo settore record per sofia secondo settore record ormai è una macchina la pilota tedesca che migliora 102 766 sempre 5 decimi di vantaggio su sam rios che ha migliorato ma mi pare che il distacco sia rimasto esattamente lo stesso scendiamo in pista di nuovo con sofia per migliorare basta una qualsiasi carta per arrivare al cento per cento quindi massimo setup per lei vediamo con la nostra sam che arriverà al cento per cento con questa carta non spendendo neanche un punto stessa condizione per entrambe scendiamo in pista per il terzo ed ultimo giro con sam rios che deve liberarsi di un po di traffico prima di effettuare il suo giro veloce parte il giro di sofia floers che ha se non sbaglio proprio le clerk davanti a sé ma sta migliorando comunque senza alcun tipo di problema fucsia fucsia i primi due settori fucsia anche il terzo addirittura un 1 0 2 399 da più di sette decime la compagna di squadra le clerk in terza a un secondo e tre dominio totale di sofia floers in queste qualifiche sulla compagna di squadra primo posto completato nelle qualifiche ancora un 1 2 1 1 racing team davvero inarrestabile a questo punto della stagione vediamo le strategie gomme ultra morbide che durano dai 4 ai 6 giri teoricamente dovremmo essere in grado di effettuare ultramorbide e super morbide come strategia quindi partiamo con le ultramorbide con entrambi le gomme super morbide si consumano il 18 per cento più lentamente quindi per sam rios potrebbe essere molto interessante per avere una vettura molto veloce nel secondo stint di gara visto il consumo mentre andiamo sempre sui tp del p stop sono più veloci di 0 75 secondi per sofia floers andiamo a spingere sul carburante il meteo dice che sarà soleggiato tutta la sessione quindi proseguiamo e scendiamo in pista si accendono le luci 3 4 5 e parte il gran premio di guildford sesto round della stagione buono lo scatto di sofia floers sofia floers scusate sam rios si deve difendere invece da charles clerc lo fa in questa prima fase poi ci prova all'esterno charles clerc si prende la posizione e vuole attaccare anche sofia floers il pilota della ferrari sembra che la ferrari possegga un motore piuttosto potente ci prova però a tornare sam rios mette in crisi il pilota ferrari e si riprende la seconda piazza sono tutti lì primo secondo e terzo tutti racchiusi in un fazzoletto con sam rios che perde qualcosina e perde di nuovo la seconda piazza mentre le clerc sta gestendo la gomma interessante le clerc sembra che voglia andare su una strategia un po diversa sam rios si prende la posizione intanto noi continuiamo a spingere sul carburante perlomeno con entrambi i piloti purtroppo ripassa le clerc ripassa ancora nonostante stia non sta più gestendo la gomma ma evidentemente nel primo giro ha gestito il pilota ferrari ora dobbiamo cominciare a gestire il nostro carburante dovremmo utilizzare anche modalità batteria rs per recuperare rios che in terza ha perso tanto dalle clerc che sta provando a rimontare su sofia floers sembra avere un gran passo charles clerc mentre rios è sotto attacco ora da verstappen e da russell che sono vicinissimi sembra non avere passo la la pilota la pilota statunitense in questo momento non sembriamo così più veloci come eravamo in qualifica come sembrava il distacco in qualifica soprattutto di sofia floers che però per ora si sta difendendo bene vediamo la strategia sono curioso di vedere la strategia di charles clerc perché comunque al 50 per cento la gomma cominciamo a gestirla cominciamo a gestirla perché rischiamo di perdere la gara così se allora con la rios possiamo andare tranquillamente forzare cercare di andare avanti su questa strategia e poi montare la super morbida al sesto giro alla fine del sesto giro spingiamo nell'ultimo giro spingeremo tanto sofia floers sta gestendo la gomma perché vogliamo pareggiare la condizione con le clerc che ora sta consumando sta spingendo più sul carburante le clerc ora possiamo andare in reazione neutra dobbiamo difenderci dall'utilizzo delle rs passa le clerc passa le clerc passa le clerc si prende la prima piazza charles clerc la rios spinge in questo giro la rios spinge e facciamo risparmiare sofia floers la rios la facciamo spingere con sofia floers sto pensando addirittura di effettuare una strategia diversa e montare un altro ultramorbida e fare otto giri con questa gomma anche se l'abbiamo usurata tanto andiamo a selezionare il p stop con sam rios che potrà spingere tanto sulla sua ultramorbida si ferma le clerc quindi al prossimo giro faremo fermare sofia floers e le facciamo montare una super morbida perché penso che monti anche le clerc la super morbida infatti andiamo pari con le gomme spingiamo anche sul carburante sam rios che rientra davanti alle clerc importantissimo questo cerchiamo di difenderci possiamo spingere sulla gomma ora le clerc utilizza le rs hanno rs non so da dove e le clerc si riprende tranquillamente la posizione e allora andiamo in neutra e proviamo a gestire la gomma spingeremo nelle fasi finali velocissimo il p stop di sofia floers passa in vetta estebano con che partiva con la super morbida passa anche gasli ma la floers è ampiamente avanti e ora dovrà cominciare a gestire anche lei gomma e carburante però abbiamo un buon vantaggio nei confronti di charles clerc per cercare di difendere quella prima posizione le clerc che dovrà spingere ora proviamo a spingere con la rios per provare a rimontare cominciamo a spingere cominciamo a spingere perché gli altri davanti stanno consumando la gomma le clerc non sta più spingendo ora è il momento di provare a recuperare su charles clerc che è una gomma molto peggiore rispetto a quella della rios e soprattutto di sofia floers che sta spingendo la davanti per riprendersi la posizione suo con che si fermerà però al pit quindi sofia floers è comunque in p1 ha un buon vantaggio di 4 secondi su charles clerc la rios sta provando a mantenere la scia dell'avversario e prova a spingere ora sulla gomma e sul carburante per recuperare sul pilota ferrari pit stop però con quindi p1 per la floers p2 per charles clerc p3 per la rios che passa ora e si prende di nuovo la p2 non vuole mollare la pilota statunitense sta spingendo per cercare di mantenere vantaggio però ripassa ora charles clerc è veramente un un avversario molto scomodo in questa gara charles clerc e sofia scusate semrio si riprende ora la posizione ancora una volta però teoricamente poi le clerc spingerà nuovamente vediamo in per le gomme sta spingendo anche le clerc perché queste ultime fasi di gara si possono fare tutte in spinta mentre sofia floers sta continuando a guadagnare vediamo la rios se riesce a difendersi ora utilizzo un po di rs ma guardate le clerc che sta risparmiando carburante per la fase finale di gara probabilmente sofia floers ormai l'abbiamo lasciata là davanti la mettiamo in reazione neutra visto che ha gomma da poter sfruttare la rios ha preso un po di vantaggio ha preso due secondi su charles clerc perché sta cedendo la gomma di charles clerc che sta andando e non va ancora in risparmio possiamo andare in reazione neutra con la rios per tentare di risparmiare ancora e risparmiare soprattutto le rs per difendere quella seconda piazza la rios che ancora deve pensare di difendere di limitare i danni sulla floers perché sta dominando sofia floers la rios ha preso vantaggio ha preso un buonissimo vantaggio sulle clerc più di due secondi e mezzo ora sta crollando la gomma di charles clerc la rios in reazione neutra ancora gomma volontà per potersi difendere quindi dovremmo esserci assicurati la posizione sul pilota ferrari e assicurati l'12 tra pochissimo andremo a spingere possiamo spingere sul carburante spingere sulla gomma per quest'ultima fase spingere anche sulla modalità rs per prendere altro vantaggio 1 2 sofia floers vince davanti alla compagna di squadra sam rios charles clerc a completare il podio e soprattutto è una buona giornata per noi perché mercedes non fa tanti punti russell in quinta e mic schumacher in ottava piazza completato ancora il bonus l'obiettivo dello sponsor ancora doppio podio per noi ancora 1 2 stavolta a farci compagnia charles clerc per ferrari che è stato molto bravo durante questa gara ma vince ancora sofia floers con 7 secondi di vantaggio sulla compagna di squadra e 10 su charles clerc ancora dominio per sofia floers e ancora dominio per la one in one racing team sono ora 115 punti di vantaggio per noi su mercedes 125 su red bull a corcia scuderia ferrari che va a meno 2 dalla red bull classifica piloti allunga ancora sofia floers e quasi una vittoria di vantaggio sulla compagna di squadra 128 a 107 21 punti di distacco le clerks sale in terza posizione a quota 61 davanti a schumacher e rasse la quota 60 verstappen 58 o con 52 non race 47 albon 22 gasli chiude la top 10 quota 8 punti la simulazione degli altri campionati naturalmente non ci interessa quindi possiamo proseguire vediamo la nostra dashboard abbiamo un'altra caratteristica ottenuta da sofia floers caratteristica felice quindi più 1 tutte le statistiche se non sbaglio aveva già una statistica con più 1 il il perk al top vediamo più 20 le prestazioni di tutti i componenti come bonus del qg scendiamo a poco più di 19 milioni di dollari quindi siamo molto tranquilli dal punto di vista finanziario anche per poter migliorare la nostra vettura scade un altro un altro fornitore due arriveranno tra una gara e quest'ultimo lo dovremo sbloccare solo quando arriverà quell'altro fornitore quindi vediamo vedremo nella prossima gara detto questo abbiamo un meccanico famoso disponibile charlotte barker ci avvisa darryl sparrow che sarebbe anche buono però comunque di chiave inglese più basso rispetto a quelli che abbiamo già reback assolutamente lo rifiutiamo venkatesh lo rifiutiamo ma anche darryl sparrow non è così elevato perché più 10 prestazioni gomme medie più 60 per cento di carica iniziale sre non è a livello di quello che voglio io quindi rifiutiamo questo staff leggendario sviluppo dell'auto del prossimo anno sbloccato naturalmente ci concentriamo sul telaio non è detto che arriveremo alla prossima stagione ma noi spendiamo tutto per avere la macchina migliore possibile 11 milioni di dollari abbiamo soldi da parte per poterlo fare e ci rimangono anche 8 milioni di dollari quindi siamo sicuri che la prossima stagione avremo una vettura di assoluto livello e già siamo i più forti della griglia costruzione componente completata arriva per primo l'alettone posteriore 9 peggio del previsto in prestazione 19 per cento in più in affidabilità quindi 100 per cento lo assegniamo stavolta a sam rios che sta comunque facendo molto bene con una vettura peggiore rispetto a quella della compagnia di squadra torniamo alla home abbiamo un contratto in scadenza di charlotte barker lo rinnoviamo naturalmente abbiamo i punti disponibili lo assegniamo uno a sofia floers in frenata 19 su 20 è l'ultimo punto a sam rios in partenza è completata la crescita di sam rios abbiamo uno solito obiettivo in attesa che non possiamo sviluppare come avete visto quindi possiamo proseguire alla settimana di riposo vediamo se abbiamo altri sponsor in scadenza no abbiamo componenti completati in effetti arriva il nuovo motore uno peggio del previsto in prestazione ma 100 per cento di affidabilità lo assegniamo direi a sam rios se sono entrambe soddisfatte vuol dire che comunque la vettura di sofia floers è sempre migliore rispetto a quella della compagnia di squadra abbiamo terminato le nuove sospensioni il miglior pezzo lo daremo naturalmente stavolta a sofia floers meno 7 in prestazione meno 4 in affidabilità andiamo a scambiare gli elementi e diamo questo nuovo a sofia floers avremmo anche l'arrivo di un cambio l'ultimo pezzo che attendevamo il nuovo cambio 2416 100 per cento di affidabilità un ottimo pezzo davvero lo assegniamo sempre a sofia floers la nostra prima pilota che ha quattro pezzi primo posto due pezzi secondo naturalmente invertiti per la rios due pezzi al primo posto il motore e l'alettone posteriore gli altri al secondo posto abbiamo un dilemma andiamo ad affrontarlo a un aiuto solidale capo il nostro garage di go kart locale vuole che insegni ai suoi meccanici in cambio offrono un compenso considerevole mi piacerebbe aiutarli ma trascorrere molto meno tempo nel garage è facile perdere la mano quando non si è in forma perfetta non ci interessa perdere performance del giorno di gara per un milione e mezzo di dollari visto che soldi da parte ne abbiamo quindi abbiamo bisogno del nostro meccanico geordi kesler in nella nostra scuderia appunto abbiamo quindi terminato per questo episodio ragazzi se vi è piaciuto naturalmente like commento iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti iscrivetevi a tutti i miei canali social e naturalmente non perdetevi il prossimo episodio stiamo andando alla seconda parte della stagione round 7 gp di monaco in germania cercheremo di confermare questi straordinari risultati stiamo facendo praticamente come la brown gp nel 2009 arrivati da rookie e dominando il campionato speriamo bene speriamo di confermare questo trend vi ringrazio per la visione e alla prossima ciao willers